Nuovi moduli abitativi alla forestiera regionale di Torretto Antonacci che si trova nelle campagne tra Sansevero e Rignano Garganico e che sorge a pochi metri dal ghetto. Lo ha deciso l'Aggiunta regionale chi ha disposto il trasferimento temporaneo di una trentina di migranti che vivono in alcuni immobili che sorgono nell'area regionale dove vivono i migranti. Edifici giudicati a rischio crollo e quindi pericolosi. Una parte dei migranti potrebbe essere ospitata a Casa Sancarà, la struttura di accoglienza che si trova tra Foggia e Sansevero, un'altra parte nei primi moduli che saranno sistemati nei prossimi giorni. Il tutto sarà realizzato alla protezione civile con una spesa complessiva di 100.000 euro. Intanto sempre la regione Puglia ha provveduto ad assicurare la sicurezza della foresteria con un servizio armato affidato alle guardie giurate, un servizio fortemente voluto al prefetto di Foggia Raffaele Grassi anche dopo il ferimento il 25 aprile scorso di un cittadino maliano colpito da una fucilata mentre era in auto con due stranieri, in località Borgo La Rocca, nelle campagne alle periferie di Foggia. I tre stavano rientrando proprio dall'insediamento di Torretta Antonacci quando sono stati inseguiti da un fuoristrada dal quale sono stati sparati alcuni colpi di fucile, uno dei quali ha ferito il migrante. Pronti a partire anche i lavori affidati alla provincia di Foggia di rifacimento della strada provinciale che collega il campo, strada che sarà anche dotata di una illuminazione pubblica.